Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come velocizzare i download su Google Chrome in questa breve guida ragazzi ti spiego come velocizzarli al meglio prima di cominciare ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella di lasciare un like ovviamente stavo scaricando un film l'ho dovuto censurare per non beccarmi così un copyright o qualche altro avvertimento e se vado su riprendi inizia prima a scaricare tipo 4-7 MB al secondo e poi arriva sotto i 2 MB e poi scende a 300 KB al secondo quindi in questo caso io faccio pausa clicco qua sopra copia indirizzo link vado sul programma free download manager in descrizione vi ho lasciato il link che vi porterà sulla pagina per scaricare free download manager vado su più metto così il link che ho copiato su Chrome faccio ok eccolo qua e faccio scarica e quei 300 KB diventano così 12 MB al secondo se avete una buona connessione su Chrome fate 200 KB al secondo significa che il Chrome proprio è rotto quindi in questo caso c'è un'altra soluzione è quello di usare free download manager quindi funziona con i file mp4, mp3 con i giochi torrent pure è la stessa cosa e con i programmi Xe non ci ho mai provato comunque la velocità di download è questa se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao